bro oh bella che dici tutto a posto si si te bene bene vai senti c'ho due cose clamorose da dirti vai vai dimmela prima oh ha segnato djeko ma che davvero oh ha segnato djeko no vabbè la seconda è che fede ha caricato un nuovo fac oh c'è stai eh si dimmi stavo a dire fede marconi ha caricato un nuovo episodio delle fac no dai non ci credo eh guarda salve a tutti ragazzi e ben ritrovati qui sul mio canale oggi siamo tornati con un nuovo episodio del fac time però cioè ragazzi sono tornato oggi non è che me posso vestir così aspettate un attimo eh oh direi che così ci possiamo stare dai comunque c'ha stile la camicia aperta comunque ragazzi ben ritrovati sul mio canale lo ridico un'altra volta perchè quant'è che non vi portavo le episodio delle fac da natale dal 24 dicembre quindi non da natale dalla vigilia però comunque bentornati a ridillo fe mi raccomando eh insomma questa è la postazione che penso utilizzerò per il facchio time scusate se non starò sempre molto al centro però capire che c'è una visuale della madonna lì c'è il canale mio qui c'è la postazione lì c'è il microfono di qua c'è il calendario della roma il termosifone il computer e soprattutto il telefono con le domande che mi avete fatto voi oggi tra l'altro visto che non è stato fatto nel fac natalizio tornerò a salutare alcuni di voi alcuni cioè non è che siete tanti eh Erna esatto quindi saluto Andrea Fiore, Dandro, Leonardo Di15, Cristian Chiodetti, Andrea Fumagalli, Simone Puligheddu mi dicono che non sei sardo Amedeo Nascia o Nascia scusa Filippo Scamponi, Checo Lecce 003, Giacomo Dell'Aquila, Giuseppe Miconi e Gianluca 69 complimenti per il numero che lascia sempre ben pensare ma comunque sto lasciando un attimo i doppi sensi io ragazzi vi ricordo appunto come al solito che se non siete stati salutati in questo video oppure non me l'avevate neanche chiesto potete benissimo farlo qui sotto nei commenti e verrete salutati nel prossimo FAQ che vi prometto ve lo porterò il prima possibile eh sì, dici sempre la stessa cosa vabbè oh, che devo di? eh dai, basta dopo questo inizio molto fragrante direi che questo è un video serio la prima domanda del giorno ce la fa Simone Serroni che ci chiede chi è il tuo telecronista preferito? allora ragazzi io qui ne ho due perché sono uno è il re dei telecronisti l'altro invece è il telecronista a cui mi ispiro di più e che tra l'altro ho avuto anche la possibilità di conoscere nel 2012 mi pare comunque vi parlo di Fabio Caressa e era scontato e Riccardo Trevisani iPixel iPixel o ilPixel ci chiede fact time sei mai stato bocciato? hai preso materie per l'estate? in che scuola vai? allora bocciato no probabilmente non sarei più qui a dialogare con voi conoscendo mia madre rimandato sì e due volte defila in due anni adesso sto al terzo il primo anno sono stato rimandato in latino faccio il classico eh però vabbè il latino perché ero partito bene poi però ho avuto un calo clamoroso e mai ragazzi scaricare le versioni da internet ve lo do come consiglio non fate come me vabbè questa dopo la tagliamo eh cioè smetti che vede il video no? vabbè mentre l'estate scorsa quindi questa appena passata ho avuto il debito in matematica però la cosa strana è che io quando poi prendo un debito l'anno dopo vado benissimo in quella determinata materia mi è successo lo scorso anno con latino e mi sta succedendo quest'anno in matematica ah e per concludere in che scuola vai? faccio il terzo anno del classico quindi il primo classico Ciro Lollo detto anche Cirollo da grande cosa ti piacerebbe fare? bellissima domanda e la risposta è comunque determinata allora io ho sempre ho sempre voluto fare ho sempre detto con chiarezza lo dico tuttora che mi piacerebbe diventare un giornalista sportivo con diciamo specificamente un telegronista e quindi un trevisani della situazione a me ragazzi piace veramente tanto trevisani e poi sentite anche dalle telegronache che faccio nella carriera che tra l'altro lo state qui in questo momento perché dovete assolutamente vedere video di carriera ma anche questo video quindi finite di vedere questo e poi andate a vedere la carriera però al contempo io come sapete non so se lo sapete ho anche un canale su youtube lo so simpatico mamma mia da spararmi proprio insomma ho un canale anche su youtube al momento per carità ragazzi siamo quasi a 5.000 iscritti io youtube la considero assolutamente una passione per il momento poi sono consapevole che su questa piattaforma ci sono anche persone che lo fanno per lavoro io non posso permettermi né per l'età né per il seguito che ho né per il mio punto di vista attuale e i miei progetti futuri di considerarlo un lavoro ma questo non vuol dire che non ci metto il massimo in quello che faccio ci metto sempre il massimo in ogni video sono migliorato tantissimo negli anni e quindi punterò ancora a migliorarmi quindi è chiaro che se youtube dovesse diventare poi una cosa molto più importante grattamose potrei anche rivalutare poi una mia eventuale scelta però non si sa cioè per il momento sicuramente il mio obiettivo massimo sarebbe quello del telecronista perché è una grandissima passione Alessio Musetti la tua prima volta allo stadio era il maggio del 2009 la partita era Roma-Catania finì 4 a 3 per noi per la Roma e quella fu una partita strana perché la Roma andò prima in vantaggio con tra l'altro la Roma di Spalletti e non sicuramente il migliore anno forse il peggiore che ha fatto Spalletti ma comunque quella fu una partita strana perché la Roma andò in vantaggio 1 a 0 poi ci fu l'immediato pareggio poi andò sul 3 a 1 addirittura e nel giro di pochissimo tempo cioè a fine primo tempo eravamo se non sbaglio 3 a 3 e poi nel finale siamo riusciti a trovare il gol del Benedetto 4 a 3 quindi potete capire già come mi sono abituato ad andare allo stadio a piei colpi però questa è la Roma ragazzi che dobbiamo farci quindi stanno in argomento la domanda è sei mai stato a vedere Roma-Lazio Lazio-Roma o comunque un derby salutami sei un grande che hai il nome impronunciabile però per il resto ciao allora sì e questo si ricollega anche al discorso che volevo fare dello stadio e della Roma in generale perché io il primo derby che ho visto è stato un Lazio-Roma sì ho visto anche Lazio-Roma è stato un Roma-Lazio del 2013 non la finale di Coppa Italia ma quello prima finì 1 a 1 e segnò anche Totti su rigore sotto la sud fu una partita abbastanza emozionante perché Hernanes sull'1 a 0 per loro sbagliò il rigore quindi io sono uscito dallo stadio che ero senza voce però è giusto così e l'anno dopo quindi il primo di Garcia è stato anche l'anno in cui sono andato a vedere più partite ed è stato anche l'anno in cui la Roma avrebbe meditato lo scudetto visti gli 85 punti in una stagione da record solo che la Juve ne ha fatti 102 quell'anno oltre ad aver visto il derby di andata Roma-Lazio che finì 2 a 0 sono andato anche a vedere quello di ritorno Lazio-Roma che purtroppo finì 0 a 0 ero in curva sud praticamente quindi anche perché per cazzo andavo tutti i laziali e giusto per chiudere l'argomento stadio l'argomento Roma l'argomento calcio che non è vero perché la maggior parte delle domande riguardano il calcio e Sergio Milano il bomber che saluto ci chiede la partita più bella che hai mai visto della Roma sto a casca allora qui è difficile la risposta perché adesso non stiamo parlando del Barcellona però la Roma di partite belle ne ha giocate probabilmente ti dico Roma-Bayern Monaco della stagione 2010-2011 nel girone perdevamo 2-0 a fine primo tempo e poi abbiamo vinto 3-2 con i gol di Borriello da una falcata di Menès che si ricorderanno tutti clamorosa sulla fascia il pareggio di De Rossi e il gol di Totti su calcio di rigore alla fine quindi quella fu veramente una partita emozionantissima che però purtroppo non sono andato a vedere allo stadio l'unica finora partita di Champions che sono andato a vedere allo stadio era quella che fondamentalmente si divideva la pole position con questa come partita più bella e vi parlo di Roma CSKA dell'anno scorso finì 5-1 4-0 nel primo tempo cioè un delirio totale poi noi ci siamo fermati loro hanno cominciato a giocare ma è stata veramente una partita pazzesca della Roma quella quindi forse anche come gioco totale come padronanza penso quella sia un passettino avanti però alla fine il calcio è fatto di emozioni e quindi Roma-Bayern Cristian Paoletti ci chiede qual è l'anniversario del tuo canale poi ciao Cristian perché ci chiede di salutarlo allora l'anniversario ragazzi è il 13 ottobre infatti il canale è nato ma comunque ho cominciato a caricare i video il 13 ottobre 2013 anche se poi l'ho aperto nell'agosto 2012 che manco mi ricordo infatti se andate nei dati c'è scritto agosto 2012 o forse luglio mi ricordo tipo 23 qualcosa e poi c'è Yas che ci dice hai mai pensato di chiudere il canale faresti contente tante persone il grandissimo bomber Andrea Preite meglio conosciuto come Andrew su youtube ci chiede sei soddisfatto del cammino fatto fino ad ora su youtube o cambieresti qualcosa bella bro e bella pure a te allora soddisfatto sì perché io ci ho sempre messo il come ho detto prima il massimo con i mezzi che avevo quindi mi ricordo all'inizio che registravano il tablet e io più di così non potevo dare e quindi comunque in quel momento davo il massimo poi appena ho avuto i mezzi per far di più l'ho fatto adesso spesso se vedete anche le foto che metto su facebook la telecamera è sorretta da vocabolari e libri come adesso per esempio non ho una luce professionale ma una lampadina che di solito sta lì e adesso sta là sopra però comunque ragazzi si fa quello che si può vi ripeto che è sempre una passione però sì sono soddisfatto perché altrimenti probabilmente non starei neanche qui a parlare con voi se cambiare qualcosa probabilmente il tempo in cui ho raggiunto determinati livelli e forse proprio il primo anno perché adesso sì lo faccio con passione ma ho le idee più chiare prima lo facevo molto più ingenuamente e quindi non ho buttato un anno ragazzi comunque i nostri 700 iscritti ce li siamo fatti però poi da quei 700 iscritti poi da quando ho cominciato a registrare con altri mezzi ho cominciato a sapere editare i video sono cresciuto molto più rapidamente e ripeto adesso sono quasi a 5000 iscritti probabilmente in quell'anno lì potevamo toglierci ancora più soddisfazioni però comunque va benissimo ve amo e ve hanno soprattutto Cristian Chiodetti mi chiede hai una ragazza se sì come si chiama si chiama no è vero diciamo che ce l'avevo e si chiamava Gloria non è morta si chiama ancora Gloria però poi mi ha lasciato così quindi sono single dai comunque vi siete messi d'accordo per le domande oggi Antonio Grande ciao Fede ti hanno mai frienzonato? se sì raccontalo è successo un po' di fretta è andata più o meno così amore come va? tutto a posto? senti ma quindi domani è confermato usciamo vero? guarda volevo dirti che preferirei essere solamente amici perché non mi sento presa al 100% scusa ti voglio bene ma che cazzo eh come sto sto come a merda bro vabbè bro tranquillo cioè ce ne stanno altre ne troverai altre devi stare tranquillo guarda te va da usci così almeno incontriamo altra gente altre ragazze dai usci ma no no non mi va non ce la faccio va veramente malissimo non ci riesco penso solo a lei ora mi ammazzo oh e allora ammazzati ma come? bene questi sono stati un po' i miei ultimi due mesi ma va bene viva la vita quindi ragazzi siamo arrivati alla fine di questo episodio a mio parere epico perché spero che lo monterò in un modo molto figo ma ho tanti progetti in mente quindi progetti o non progetti siamo comunque che della fine mi dispiace ragazzi la vita è una merda ma glielo dico sempre se il video vi è piaciuto vi invito a lasciarmi anche un bel pollicione in su ovviamente lasciatemi qui sotto nei commenti una domanda per il prossimo episodio delle fac se non lo siete già vi invito chiaramente ad iscrivervi al canale a passare da facebook che trovate in descrizione da instagram che trovate in descrizione da youporn che non trovate in descrizione perché sennò mi bannano il canale direi che per il momento è tutto io posso anche chiudere qui e quindi da questa panoramica della madonna e dal mio canale è tutto bella raga oh aspeo un saluto anche al signor bella signor iscriviti al canale When we collide